come nasce rosa del golfo rosa del golfo nasce nel 1938 ad alenzio per volere di mio nonno giuseppe che essendo figlio di contadini voleva dare uno sfogo all'uva che suo padre che si chiamava damiano come me produceva e si è messo a produrre lino quanto è stato importante per voi per la vostra azienda il territorio rosa del golfo come dice il nome stesso è frutto del suo territorio è principalmente un'azienda di vini rosati che sono classici del salento fatti con il negro amaro del salento e che sfrutta questo territorio meraviglioso della terra con la vicinanza al mare damiano qual è il servizio di pallet waste che soddisfa al meglio le vostre esigenze di consegna sicuramente con pallet waste che è il nostro partner da tanti anni il servizio più importante è quello premium di 48 ore in italia ci permette veramente di spedire il nostro vino ai nostri clienti in sole appunto due giorni e averlo lì da loro come se fosse ancora da noi nella nostra canzone quanto è importante poter contare su un partner affidabile per il trasporto è importantissimo soprattutto in quei periodi dell'anno più complicati per noi i nostri clienti pasqua le ferie estive natale in modo che il nostro vino arrivi dai clienti il prima possibile possa aiutarli nella loro attività